Ciao, sono Alessandro Ballan, sono qui per il campionato del mondo che si disputerà domenica a Mendrisio, è un percorso molto duro rispetto a quelli degli anni scorsi, presenta due salite, la prima abbastanza impegnativa con pendenze fino al 15% e la seconda che è proprio due chilometri prima dell'arrivo dove può essere un punto decisivo per chi vincerà l'ultimo giro questo campionato del mondo. Speriamo di essere fra i protagonisti come l'anno scorso e dopo i due campioni del mondo italiani che l'hanno vinta due anni consecutivi, Bugno e Bettini, speriamo che ci sia anche Ballan.